Musica Hey guys, welcome back to my channel So, finally a new video for you Sono veramente felice di fare questo video perché è uno dei video forse più richiesti negli ultimi tempi, soprattutto da quando sto un po' trasformando un po' il mio stile, pubblicando molto più quello che amo, soprattutto su Instagram, e questo sarà un video dove vi mostrerò come disegno i nasi, come disegno soprattutto l'effetto che a molti di voi piace, ovvero la luce, le ombre giuste spero che vi piaccia, ma soprattutto se provate a ricrearlo, mi raccomando taggatemi sui vostri lavori su Instagram sono curiosissima di vederli questo vorrei che fosse un inizio di nuovi tutorial nel 2020, con tanto studio dietro dopo tutti questi anni quindi penso che il mio stile sia migliorato sicuramente, quindi ci saranno nuovi tutorial pensati molto più con lo stile di oggi inoltre sto pensando di inserire un video satisfied, ovvero un video dove con il mio disegno vado a creare dei video soddisfacenti e questo è la traduzione in italiano ma non rende assolutamente ovvero creare dei video dove magari coloro rimango dentro i bordi sono dei video appunto un po' ASMR ma in diverso stile si chiamano proprio satisfied video e li trovo molto più adatti come video relax soprattutto nell'ambito del disegno piuttosto che ASMR anche se vorrei fare anche quelli però sono un po' particolari quelli ci vorrebbe davvero un silenzio incredibile ci vorrebbe un momento nella mia giornata in cui io debba concentrarmi solo sul video ASMR quindi la trovo un pochino non dico impossibile però abbastanza difficile però cercherò di fare tutto quindi iniziamo subito con questo video e ovviamente ce ne saranno tanti altri thumbs up if you want more video like this e quindi niente vi lascio al video iscriviti al canale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti